Monitoraggio delle performance del proprio business online Una delle chiavi per il successo nel campo dell'affiliate marketing è il monitoraggio costante delle performance del proprio business online. Senza una corretta analisi e ottimizzazione, diventa difficile capire cosa funziona e cosa non funziona e di conseguenza prendere decisioni informate per migliorare i risultati. Il monitoraggio delle performance può essere effettuato attraverso una serie di strumenti e metriche che ti permettono di valutare l'efficacia delle tue strategie di marketing e di misurare il ritorno sull'investimento, ROI, delle tue campagne pubblicitarie. Strumenti di monitoraggio Esistono molti strumenti di monitoraggio disponibili che ti consentono di analizzare le performance del tuo business online. Alcuni strumenti comuni includono Google Analytics Questo strumento gratuito ti fornisce una vasta gamma di informazioni sul traffico del tuo sito web, come il numero di visitatori, le pagine visitate, il tempo trascorso sul sito e molto altro ancora. Puoi utilizzare Google Analytics per identificare le pagine che generano più traffico e conversioni e per individuare eventuali problemi che possono ostacolare le tue conversioni. Built-in Analytics di Builderall La piattaforma Builderall offre anche strumenti di analisi interni che ti consentono di monitorare le performance del tuo sito web, delle pagine di vendita e delle campagne pubblicitarie direttamente all'interno della piattaforma stessa. Questo ti permette di avere tutte le informazioni di cui hai bisogno in un unico luogo e semplifica il processo di analisi e ottimizzazione. Strumenti di tracciamento delle conversioni Puoi utilizzare strumenti come Google Tag Manager o il Pixel di Facebook per tracciare le conversioni e misurare il successo delle tue campagne pubblicitarie. Questi strumenti ti consentono di monitorare le azioni che i visitatori compiono sul tuo sito web, come l'acquisto di un prodotto o la compilazione di un modulo, e di attribuire queste azioni alle tue campagne di marketing. Metriche chiave Una volta che hai accesso a queste informazioni, è importante comprendere le metriche chiave che dovresti monitorare per valutare le performance del tuo business online. Alcune metriche importanti includono Tasso di conversione Questa metrica ti indica la percentuale di visitatori che compiono l'azione desiderata sul tuo sito web, come l'acquisto di un prodotto o la compilazione di un modulo. Un alto tasso di conversione indica che le tue strategie di marketing stanno funzionando e che i tuoi visitatori sono interessati ai tuoi prodotti o servizi. Costo per acquisizione CPA Questa metrica indica il costo medio che hai sostenuto per acquisire un nuovo cliente o utente. Monitorare il CPA ti permette di valutare l'efficacia delle tue campagne pubblicitarie e di ottimizzare il tuo budget di marketing. Valore della vita del cliente CLV Questa metrica ti indica il valore medio che un cliente ti porta nel corso della sua vita. Monitorare il CLV ti permette di valutare l'efficacia delle tue strategie di fidelizzazione e di identificare le opportunità per massimizzare il valore dei tuoi clienti. Ottimizzazione delle performance Una volta che hai analizzato le performance del tuo business online e identificato le aree di miglioramento, è importante prendere azioni per ottimizzare i risultati. Alcune strategie di ottimizzazione comuni includono Test AB Esegui Test AB per confrontare due versioni di una pagina di vendita o di un'email marketing e scoprire quale versione genera migliori risultati. Puoi testare diversi elementi come il titolo, il testo, le immagini e i call to action. Ottimizzazione del sito web Migliora l'usabilità e la velocità del tuo sito web per garantire una migliore esperienza utente. Riduci i tempi di caricamento delle pagine, semplifica la navigazione e assicurati che il tuo sito sia facilmente accessibile da dispositivi mobili. Segmentazione del pubblico Suddividi il tuo pubblico in segmenti più piccoli e mira le tue campagne di marketing a ognuno di essi in modo più specifico. Questo ti permette di fornire contenuti e offerte più rilevanti e di aumentare le probabilità di conversione. Ricorda che il monitoraggio delle performance e l'ottimizzazione sono processi continui. Mantieni un occhio costante sui tuoi dati e apporta modifiche e miglioramenti regolari per massimizzare il successo del tuo business online nel campo dell'affiliate marketing.